Cantina sociale di Castagnole Monferrato, dove nasce il Ruchè. Si chiama Karin Giulia Weckerle e è da 52 anni la camionista tedesca che ieri ha investito il collega Massimo Ivano Crepaldi, deceduto a soli 46 anni. E' stata arrestata per omicidio colposo ed ha passato la notte nel carcere Le Vallette di Torino. Il vicequestore Carmine Bagno ha praticamente adottato un provvedimento di arresto in flagranza di reato. Probabilmente oggi il procuratore Giorgio Vitari e il vicario Vincenzo Paone chiederanno al GIP la convalida dell'arresto. La donna dovrà comunque ancora essere interrogata. Si deve cercare di fare luce su quanto possa essere accaduto ieri mattina alle 5 e un quarto in Regione Palucco, nei pressi del casello autostradale Asti-Ovest dell'autostrada Torino-Piacenza. Per tutto il giorno sono trappelate versioni molto contrastanti sul tragico avvenimento. Di certo una vita è stata spezzata ed i giudici devono stabilire se si tratta di omicidio colposo oppure di omicidio volontario. Le deposizioni dei testimoni e colleghi del Crepaldi saranno fondamentali per chiarire la vicenda. La camionista sarebbe ripartita improvvisamente ed avrebbe investito l'uomo cercando di proseguire nel viaggio che da un giorno le era stato interrotto per la mobilitazione dei camionisti italiani contro il caro gasolio ed autostrade. Se abbia investito volontariamente Massimo Ivano Crepaldi e sempre volontariamente non abbia fermato il pesante automezzo passando sul corpo dell'uomo o meno è difficile da dimostrare. Di certo la donna avrebbe un curriculum immacolato ed il consolato tedesco le ha messo a disposizione un avvocato che potrà difenderla a dovere. Rimane il dramma della famiglia. Massimo Crepaldi, Ivano come veniva chiamato familiarmente, ha lasciato nel profondo dolore il figlio Alessandro, Alex, studente al Classico Alfieri e la moglie Daniela Favaretto. E come il caro gasolio che sta preoccupando i camionisti, anche i commercianti hanno i loro pensieri per le liberalizzazioni promosse dal governo. In particolare la liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi sta provocando un forte malumore e ci si aspetta così un provvedimento dalla Regione Piemonte. Sentiamo appunto la consigliera regionale Rosanna Valle. La Regione ha delle competenze relative al commercio, lo Stato, il Governo ne ha altre. Per quelle che riguardano il prossimo decreto non sappiamo ancora come sarà, per cui io direi sempre che è meglio prima leggere e poi decidere eventuali ricorsi quando si possono fare. Relativamente invece alle competenze regionali, penso che ci si debba attivare al più presto per mettere mano ad una modifica dell'attuale legge del commercio o ad una nuova legge che presumo l'assessore competente, che è molto attento, l'assessore Casoni, a tutte le problematiche come ha già affrontato quelle del mondo degli ambulanti, voglia mettere mano anche a questa, presenterà, credo a breve, un disegno di legge. Una componente del PDL, quella di progettazione, della quale io faccio parte insieme ad altri sei colleghi di Torino e altre province, riteniamo che sugli orari debba esserci una liberalizzazione, ma non, come leggo, no all'apertura 24 ore su 24, anche perché essendo le nostre realtà ben diverse, se qui non siamo a New York, non siamo in America, abbiamo delle esigenze diverse, credo che i consumatori abbiano diritto a poter fare una scelta tra i grandi centri commerciali che hanno orari di apertura molto lunghi, hanno la domenica di apertura e i piccoli negozi dove ci sono prodotti di alta qualità, quello che noi vogliamo promuovere del nostro territorio, abbiano la possibilità di poter accedere a questi negozi, magari orari di apertura anticipati al mattino o prolungati nell'orario, nella pausa pranzo, anche perché non crediamo si debba tenere aperto di notte perché ci sarebbero anche ulteriori problematiche legate alla sicurezza. E anche per oggi con le notizie dell'Astigiano è tutto, grazie come sempre per averci seguito e da rivederci ai prossimi collegamenti.